E' stato denunciato uno degli autori del violento pestaggio di un artista di strada avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 29 dicembre in pieno centro a Sulmona. La vittima, un uomo di 55 anni, era stato aggredito da alcuni giovani riportando diverse lesioni giudicate guaribili dai medici del pronto soccorso in 30 giorni. Dai racconti del mimo e di alcuni testimoni è stato possibile procedere alla ricostruzione dei fatti. La vittima era stata precedentemente presa di mira da alcuni ragazzini di etnia Rom che gli avevano lanciato dei petardi. Raggiunto uno di loro, il mimo lo aveva rimproverato. Poco dopo però sono giunti sul posto altri due giovani, sempre di etnia Rom, che avevano accusato l'uomo di aver picchiato uno di loro e lo hanno così insultato e colpito ripetutamente con calci e pugni per poi fuggire. Grazie alla descrizione fatta dalla vittima e da alcuni testimoni, la polizia, diretta dal commissario Francesca Lachioma, è riuscita ad individuare uno dei due ragazzi, un sedicenne appartenente alla locale comunità Rom, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni dell'Aquila. Sono ancora in corso le indagini finalizzate ad identificare l'altro giovane autore della violenza.